I commissari straordinari Giustini e Grossi dovranno rimboccarsi le maniche, almeno stando al quadro da loro stessi delineato circa lo stato di salute della sanità molisana nell'incontro di ieri con gli organi di informazione. Un incontro che fa seguito ad una fase di ascolto e confronto che da due settimane la struttura commissariale sta tentando con le varie realtà della sanità regionale, le associazioni e i sindacati. L'eredità che ci è stata lasciata è pesante, ha esordito così Giustini in riferimento alla fase emergenziale a cui la sanità molisana deve far fronte da ormai 12 anni. Siamo sotto piano di rientro dal 2007. L'idea è che ci siamo chiesti, dal 2007 ad oggi sono passati 12 anni e allora ci chiediamo, ma in questi 12 anni, senz'altro delle cose buone sono state fatte, sicuramente, non è tutto negativo. Però è una situazione alla quale bisogna calarsi con estrema razio, concretezza e non è che si possa risolvere i 12 anni nel bene e nel male, perché c'è stato anche delle cose positive, indubbiamente, questo sicuramente. Però c'è tantissimo da fare e non si può risolvere in un mandato, in un mese, in un anno. La recente conclusione del piano straordinario risalente allo scorso 31 dicembre, osserva Giustini, limiterà ulteriormente le risorse a disposizione. Le conseguenze saranno drastiche. Sia chiaro questo, il POS 2016-18 è terminato. Ora, o si rientra in quei paletti o altrimenti non c'è più un POS straordinario 19-21, ma per di più restrizioni con quelle risorse, no? Che è in funzione del numero dei residenti e bla bla bla, tutte queste belle cosine, aliquote fiscali, al massimo, blocco del personale e tutto quello che ci possa essere. Tutto qua. E in vista della redazione del piano 2019-2021, da Giustini rimarcata l'idea di uno sforzo sinergico tra le diverse realtà operanti nel settore sanitario regionale, senza demonizzare nessuno. Un chiaro riferimento al rapporto pubblico-privato. Non ci interessano conflitti, ha sottolineato Giustini. Allora, qui mi riservo di rispondere uno perché stiamo ancora facendo la lettura degli atti, delle cose, di quello che è stato e che è quello che verrà ridisegnato. Poi cerchiamo di non demonizzare nessuno. Dal subcommissario Grossi, un altro interessante, anzi fondamentale spunto, a chiarire la strategia che caratterizzerà l'operato della struttura commissariale nella redazione del nuovo piano sanitario. Non guarderemo solo all'aspetto finanziario. La giusta attenzione sarà riservata ai servizi da garantire ai cittadini, ha sottolineato Grossi. La modalità di approccio ai problemi non può essere solo quella economico-finanziaria, ma l'attenzione dovrà essere ai servizi. Le regioni virtuose dimostrano che si può fare non spendendo di più, anzi abbiamo molto chiaro che i problemi sanitari dei cittadini sono la nostra priorità. che devono assolutamente andare a braccetto con l'efficienza, però non guardiamo solo quel pezzetto lì.